insieme gli temi che non le sconoscevano bene nessuno dei due e ognuno andava per i chiamoli suoi capisci che un solista non si può anche permettere di portare con un po' una nota i solisti facciano una nota in maniera di tutti gli temi di tutti e non è un disastro la cazzava, scoppio la cazzola la cazzola la cazzola l'acqua la cazzola 3 quarti non le volete fare, 3 quarti? E facciamo i 3 quarti, facciamo i 3 quarti, facciamo i 3 quarti, bella questa, o ascoltete? 3 quarti, bella questa, o ascoltate? 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 4 quarti, bella questa, o ascoltate? 4 quarti, 4 quarti, bella questa, o ascoltate? 6 quarti, bella questa, o ascoltate? Grazie.